È un dovere piacevole di iniziare questa breve relazione con un ringraziamento di cuore alla dottoressa Raffaela Ponte che ci ha coinvolto in questa bella iniziativa permettendoci di svolgere un'attività di scambio intellettuale malgrado la pandemia della Covid che ci costringe a vita più ricinta. Non intendo in questa breve relazione sull'azione di Corvetto nella Francia sotto tempesta dopo la caduta di Napoleone I sviluppare tutti gli aspetti, tutti gli rapporti che il genovese abbia potuto tessere con la Francia. La sua vita potrebbe di sicuro servire ad illustrare gli scambi tra le due sorelle latine dalla rivoluzione francese al ritorno dei Borboni in Francia poi al loro insediamento al potere. La figura di Corvetto è molto interessante perché la sua collaborazione con la Francia dura sotto diversi regimi politico-costituzionali. il direttore, il consulat, l'empire, il direttorio, il consolato, l'impero, la prima poi la seconda restaurazione. Questa lunga collaborazione non deve essere interpreta come la traduzione di un grezzo opportunismo politico, ma segna piuttosto la parabola di una vita pubblica di un alto funzionario, uso le virgolette di questo tipo, al servizio della Francia. Se la parola alto funzionario può suonare un po' anacronistica, intendo solo indicare con questa che Corvetto fu innanzitutto un servitore dello Stato. Nominato consigliere di Stato nel 1805, gode presto di una fama meritata di perito di gestione finanziaria. Fuggia direttore del Banco San Giorgio, parteciperà più tardi in veste di consigliere di Stato alla redazione del Codice di Comercio. Avrà anche altre importantissime funzioni in diversi campi dell'amministrazione francese. Se la fase del risorgimento segnato dal dominio francese è spesse volte studiata per l'eredita che abbia lasciata nella penisola italiana, penso alle istituzioni ed uomini che giocano un ruolo di rilievo all'epoca delle monarchie amministrative, cioè tra l'815 e l'848, partecipando in primis alla modernizzazione delle strutture dell'Italia preunitaria, mi sembra giusto anche non dimenticare tutte le persone di spicco di origine italiana che lavorando con grandi doti intellettuali al servizio della Francia della prima metà dell'Ottocento. Acconto a Pellegrino Rossi e Carlo Botta, per limitarmi a due esempi notti, Corvetto ha tutto il suo posto. Vorrei che nunc in questo video soffermarci sull'azione di Corvetto in un momento preciso della sua vita pubblica. Il periodo durante il quale fu ministro delle finanze, una carica particolarmente impegnativa e difficile, perché la Francia conosce allora una grave crisi morale, politica ed economica. Corvetto ha niente meno che il compito di sanare le finanze di un paese occupato da diversi eserciti stranieri dopo la sconfitta di Waterloo. Infatti, Corvetto è ministro delle finanze dal 26 settembre 1815 al 7 dicembre 1818. Assume questa carica, tanto difficile, con lo scopo preciso di rimborsare al più presto possibile il debito pubblico affinché il territorio francese sia liberato e che la fiducia ritorna sul mercato francese. Questo scopo si inserisce nella perspettiva politicamente più ampia di riconciliare tra loro i francesi da una parte e dall'altra di ridare a questo paese il suo posto nella diplomazia europeana. Un doppio obiettivo perseguito precisamente dal duca Armand de Richerieu, leader politico della destra d'età costituzionale, centrista, che si colloca tra l'estrema destra degli ultra, gli ultra royalist, quello che si dicono erano più royalisti che lo roi, e la sinistra liberale che fa meno scalpore che gli ultra, ma che conosce progressi significativi nel paese legale, cioè tra gli elettori. Non vi è nulla di strano che Corvetto attirà su di sé le ire dei parlamentari ultra, sotto la guida di Joseph de Villel. In questa ira si mescolano tra ragioni particolari e ragioni politiche più generali. Tra le prime, il curriculum vitae del conte d'impero Corvetto. Corvetto ha questo titolo di conte d'impero, lui fi conferito nel 1810 dall'imperatore. Ovviamente gli ultri giudicano quell'uomo troppo compiacente e compiacente con gli ideali della rivoluzione e dell'impero. Sottolineano anche con una punta di mala fede la sua recente naturalizzazione, che risale soltanto a dicembre 1814, cioè meno di un anno prima di diventare che diventasse ministro. Si ricorda infatti che il nostro prende questa carica a settembre 1815. Sempre sul piano delle vicende personali non si deve sottovalutare la voglia di Villel, il capo dell'Ultra, di diventare ministro delle finanze al posto di Corvetto. Villel ordirà un intrigo politico nel marzo 1816 per impadronarsi di quel ministero. Un tentativo vano. Dei tre ministri nella mira delle critiche della destra ultra, Corvetto, Barbet de Marois, ministro della giustizia, Evo Blanc, ministro dell'intero, lui che si ha detto tra parentesi vicino politicamente a Villel, Corvetto è l'unico a non perdere il suo posto. Ha per lui infatti di essere molto apprezzato da Armand Richelieu e dal re Luigi XVIII, che lo fa grande ufficiale della regione d'honore il 20 aprile 1817. Corvetto aveva ricevuto il grado di cavaliere dieci anni prima e finirà grande croce, cioè la più alta distinzione, il 10 dezzembre 1818. Ma soprattutto è tenuto in considerazione per le sue qualità di esperto della materia finanziaria. L'attacco di Villel, che lo qualifica di avvocato, lo era già infatti prima del suo impegno politico che risale alla fine del Settecento, un avvocato che non intenderebbe niente alle finanze, questa critica non fa breccia. Porta più invece la critica dell'Iutra, che ricorda che Corvetto, soltanto due mesi prima di diventare ministro fu nominato da Talleyrand presidente di una commissione che si occupa di gestire l'azione dell'amministrazione per rispondere alle domande, alle requisizioni volute dagli eserciti inglesi, russe, prussiane e austriache, che occupano allora molti dipartimenti francesi. Per Villel, e di suoi amici Corvetto è dunque associato all'odioso coppia Talleyrand-Fouché. Sul piano delle ragioni più politiche, è vero che la politica finanziaria del nuovo ministro segue la scia della politica del barone lui, odiatissimo anche lui dall'Iutra per il suo passato politico. Si ricorda forse che avevo assistito Talleyrand durante la messa che celebrava per celebrare la festa della federazione in luglio 1790 e per la sua decisione alla testa del ministero delle finanze di procedere a una vendita massiva delle foreste del demanio pubblico che appartenevano prima della rivoluzione alla chiesa, un'azione assai criticata dagli ultre che, secondo la formula ben nota, non rient'aprì e non rient'ublié, cioè hanno niente imparato delle novità natte dalla rivoluzione francese, dalle idee nuove, come l'egualanza civile e niente dimenticata della perdita dei loro privilegi. Come l'hanno dimostrato in modo chiaro Olivier Tore e Chia Branda nelle loro orazioni svolte al convegno genovese di maggio 2007, dedicato a Corvetto, due principali sono le critiche formulate contro Corvetto come ministro delle finanze. La prima è di ordine giuridico-politico. Gli ultre vogliono che la Camera dei Deputati abbia più poteri in materia fiscale, ma Corvetto rimane fedele al rifiuto di Armand de Richelieu di ogni forma di descentralizzazione budgetaria, anziché parziale. L'urgenza della situazione richiama più che mai che i redini della politica economica rimangono nelle uniche mani del potere esecutivo. La seconda critica veste sulla maniera di rimborsare il debito pubblico ereditato dalla rivoluzione francese, dall'impero e dal periodo dei cento giorni, cioè il ritorno di Napoleone. Si tratta di un debito colossale. Senza entrare nei particolari, secondo le clausole del Trattato di Parigi del 20 novembre 1815, la Francia doveva pagare un miliardo e quattrocento milioni, cioè, per farmi capire, corrisponde a quasi quattro anni dei redditi delle imposte. Gli arretrati sono di quasi settecento milioni alla fine del 1815 e saranno ridotti a meno di cinquecento un anno dopo per merito di rispiarmi drastici. Con argomenti di natura diversa, che vanno dalla denuncia del rischio della deforestazione, difficile da dire per me, all'affirmazione ideologica che gli sbocchi devono essere restituiti alla Chiesa o almeno rimanere nel demanio pubblico, la Camera respinge il programmatico verto che aveva ripreso quello del Barone Lui. La Camera proponde di ricorrere solo a prestiti di banche nazionali o a prestiti di concittadini. L'intresistenza su questa materia fiscale degli Ultra si traduce con la decisione del re di sciogliere la Camera a settembre 1816. Tenendo conto della nuova realtà politica, gli Ultra infatti perdono le elezioni politiche e molto attento alla situazione drammatica del paese ancora occupato, dagli eserciti stranieri che hanno vinto Napoletano I, Corvetto fa comunque prova di un'abilità politica e di un vero senso dello Stato. Gioca un ruolo decisivo nello sciolimento della Camera introvabile, la chambre introvabile, secondo il moto del re Luigi XVIII, che porterà una chiarificazione politica. Difatti, per sé dagli Ultra, le elezioni politiche indicano un cambiamento di rotta della situazione politica, confermato dalle elezioni parziali del 1817 e del 1818, dove si verifica un progresso significativo della sinistra liberale che costrigge di riflesso la destra Ultra ad avvicinarsi di quella costituzionale. Corvetto, con grande senso politico, favorisce questa ricomposizione politica. Lo fa per temperamento, ma anche perché decide, dopo la sconfitta elettorale degli Ultra, di usare con moderazione della sua nuova posizione al centro della schiacchiera politica. Infatti si dedica a mettere in atto una politica attiva di prestito, come lo volevano gli Ultra. Corvetto ottiene un grande successo presso il banchiere olandese Hopp, un prestito di quasi 100 milioni, un po' meno, 93 per essere preciso, milioni di prestito in febbraio 1817. Questo prestito crea uno slancio decisivo. L'inglese Baring sottoscrive al suo turno un prestito e, aiutato dal banchiere francese Lafitte, sono miliardi di particolari francesi che sottoscrivono al prestito. D'altra parte, Corvetto decide di mettere in vendita solo 100 mila ettari di foreste del demanio pubblico, mentre erano previste 400 ettari originariamente. Esponente politico poco stimato dagli Ultra, Corvetto diventa allora un uomo politico poco apprezzato dalla sinistra liberale. Villel, capo degli Ultra, cominciò a giuricarlo positivamente. Nelle sue memorie, l'uomo forte degli Ultra scrive, ve lo dico in francese, almeno un buon accento in francese, le nom du nuovo ministro delle Finanze était non seulement étranger, ma a peu près inconnu en France. Simple avocat de gêne, M. Corvetto avait été appelé par l'empereur au Conseil d'État à cause de son esprit. C'était néanmoins un bon choix, vu la situation, que celui de cet honnête italien. Peu de personnes, comme on sait, connaissent les mécanismes des finances en dehors des commis du ministère. Les commis du ministère et les membres du comité des finances, entre lesquels il restait à choisir, étaient certainement inférieurs au compte Corvetto sur le rapport de la position et du talent de tribune. Cioè, in sostanza, Corvetto era forse uno straniere poco conosciuto, scelto dall'imperatore per giocare un ruolo nelle finanze, ma era una buona scelta, perché era un uomo onesto e un vero perito delle cose, e dunque un uomo di talento, e dunque era la scelta migliore che si poteva fare. Un bel omaggio di un ex-adversario che ha capito quanto Corvetto aveva saputo fare prova del senso dello Stato in un periodo dove la Francia era sotto tempesta occupata da eserciti stranieri, lacerata tra quelli che accettano compromessi col periodo rivoluzionario e quelli che rifiutano ogni compromesso. Infine, in una Francia sulla quale grava un debito pubblico colossale o importante. Due anni in anticipo, tutte le richieste di denaro chieste dagli alleati che occupano il territorio francese furono onorate. Con Corvetto è nato il credito pubblico moderno, organizzato attraverso la Cassa dei Depositi e Consignazioni, in francese la Cassa dei Depositi e Consignazioni, da lui creato a settembre 1816. Una Cassa che esiste ancora oggi, che fu all'origine finanziata con una dotazione della proprietà dei Boschi del Demanio, una Cassa indipendente che gestisce in maniera autonoma i suoi fonti, fuori dalle pressioni dello Stato che ha sempre bisogno di soldi. In conclusione, se la carriera ministeriale del Corvetto è interrotta dalla crisi della Borsa al fine 1818, non si deve dimenticare assolutamente i servizi eminenti che lei ha reso alla Francia in tempesta. La Francia, un paese che secondo le parole del ministro Decaz, lui è anche grande esponente politico di questo periodo, Corvetto, cito, ha adottato questo paese e l'ha onorato, chiudo la parentesi, l'ha onorato perché? Per merito del suo senso dell'interesse pubblico. Vi ringrazio per la cortese ascolto e vi auguro una buona visita virtuale e ringrazio ancora la dottoressa Raffaele Ponte.